e ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovissimo video oggi faccio vedere questo nuovo unboxing dello swiffer kit ho preso questo nuovo prodotto per la casa include otto panni e tre panni che si possono bagnare e lavi per terra ecco qua il retro 3 per qua ci provano vedere alcune immagini una piccola descrizione come si mette e andiamo ad aprire questo kit ecco qua le 3 per buste dove si possono bagnare e lavi per terra swiffer ecco qua e poi abbiamo i panni otto panni adesso andiamo a montare e uno e due mettiamo quest'altro e poi mettiamo alla fine ed ecco qua montato ragazzi perfetto e niente ragazzi noi ci vediamo nel prossimo unboxing mettetevi un piacere, commentate, iscrivetevi al canale e noi come sempre ci vediamo ciao a tutti belli 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 Grazie a tutti.